Padre, ma mi stai a sentire? Sì, signore. Tutti i discorsi che ho fatto prima non ne vuole che so niente. Cioè, io ci ho provato, veramente, ce l'ho messa tutta, ma sono giunta alla conclusione che gli uomini sono tutti uguali. Sorella, se gli uomini sono tutti uguali, come mai li cambi così spesso? Padre, domenica dopo la messa ne riparliamo, ora devo andare a fare la spesa, è tardi. Arrivederci, padre, grazie.